story time evoluzione radio ben ritrovati cari amici siamo su story time evoluzione radio sono teodoro e qui vicino a me abbiamo erico del sordo ciao erico di nuovo ciao 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 noi abbiamo appena concluso l'intervista con enrico parlando di imprenditoria che erico un imprenditore di cosa abbiamo parlato di precisione intervista guarda abbiamo parlato di impresa di audacia di perseveranza gli ingredienti perfetti per riuscire ad avere successo nell'impresa o comunque per provare ad avere soddisfazione nella vita questo è d'altro e c'è stata nell'intervista che inviso tutti quanti a vedere che è stata molto interessante invece se siete curiosi vorreste contattare enrico per qualche informazione o collaborazioni potete contattarlo al numero di telefono che il 800 93 356 se non andare direttamente sul sito web del sordo punto com noi di storità non ci interrompiamo per una piccola pausa a tra poco story time evoluzione radio non ci interrompiamo non ci interrompiamo non ci interrompiamo non ci interrompiamo non ci interrompiamo